Bene ragazzi, qui è Piero Spataro e benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare questo video vedo che ho raggiunto i 2000 iscritti su YouTube. Guarda, per me è una grandissima emozione avere questi iscritti in questa piattaforma. Ne sono davvero grata per tutti. Io voglio un sacco di bene i miei iscritti che si sono iscritti al mio canale YouTube. 2K è un bellissimo traguardo da parte mia. Ne sono davvero molto molto emozionato. Ringrazio di cuore a tutti che vi piacciono lo sport che è la Juventus, la musica ad esempio, che come vedete, certo sono un andante famoso, come lo potete ben notare. Niente, guarda, il prossimo video non so, dopo questo video uscirà un video super speciale e starete a vedere. Detto questo, partiamo subito con i pronostici. Come ben potete notare, non ho la connessione wifi, è molto difficile che li faccia. Non so se li memorizzerò molto bene le partite, come Dio si voglia. Allora, la prima partita ho visto che è Bologna-Spezia. Questa è difficile da giocarla. Anche Lecce-Salernitana è molto difficile da giocarla, dove entrambi ho giocato con un 9-8.5 corner. Del risultato non mi interessa, guarda. Se dovessero arrivare a 9 angoli, a partita, lo prendo. Empoli-Torino. Certo, l'Empoli è galvanizzato della vittoria contro l'Inter. Il Torino viene da una vittoria contro la Fiorentina. Io dico gol entrambe. Certo, fanno pochi gol. E non so, è pure una sorpresa che può uscire. Cremonese-Inter, penso sia due, guarda. Certo, Skriniar salta la prossima partita, guarda. Dove ha fatto condizionare la partita contro l'Empoli. Dico due. La Cremonese è l'unica squadra di non aver mai fatto una vittoria in questa Serie A. E già. Poi. Atalanta-Sampdoria. L'Atalanta vedo che si è ripresa a giocare. Juventus-Atalanta su bene che è finita 3-3. Dove mi ricordo che ho detto gol. Io dico Atalanta-Sampdoria. Uno. Vediamo. Milan-Sassuolo. Partita delle 12.30 di domenica, questa. Può uscire sorprese. Io ho giocato solo over 2.5. Tre gol a partita faranno, secondo me. Juventus-Monza. La partita delle ore 15. Uno fisso. Si sono confrontati in Coppa Italia. Adesso si sfidano in campionato. Io penso che vincerà la Juventus. Uno. Poi. Lazio-Fiorentina. Qua è molto difficile, ragazzi. Certo, Lazio è in un periodo di forma. Io mi sono coperto, invece. La Fiorentina ha anche una buona squadra. Io dico 1x più Under 4.5. Cinque gol a partita, difficile che li fa. Napoli-Roma. Napoli-Roma, invece. Guarda. È un big match. Lo so bene. Il Napoli lo vedo favorito per la vittoria del campionato. Già era benché in compromesso dopo Napoli-Juventus alla diciottesima di campionato. Io penso Napoli-Roma, gol. Udinese e la Severona. Io. Qua. Mi sono giocato gli over 8.5 corner l'ultima partita. Stop. Questi sono i pronostici per quanto riguarda la ventesima giornata di Serie A. Non le giocate tutte, è solo un gioco e vediamo di vincere. Ragazzi, ringrazio ancora tutti quanti per i miei 200 iscritti. Vi voglio un sacco di bene. Spero che il mio video vi è piaciuto. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale se siete nuovi. Se siete già iscritti, cliccate subito la campanella per non perdervi altri miei prossimi video che usciranno. Ciao e al prossimo video. E sempre fino alla fine. Vamos, Juve! Alla prossima!